carissimi amici come vedete sto provando una nuova piattaforma internet per trasmettere la web radio perché vedo che spreker di come cavolo si chiama un po dinta un po e sto caricando anche questa nuova tanto questo guardando ok questa web radio dove poter trasmettere che dire ma speriamo che sia ottimo si chiama radio king da proviamo speriamo che sia una web radio una piattaforma che mi permetta di trasmettere più a lungo rispetto a spreker ma vediamo un po